Siamo tutti contenti di essere qua Tutte le persone che sono venute sono tutti felici Devo essere sincero non me l'aspettavo assolutamente Devo dire che è stata una bellissima serata indimenticabile proprio Benissimo in compagnia dei trofei di Gavinto l'Inter Di Benoit Coebe, Calossi e tutti gli ospiti È stata una serata bellissima Ho conosciuto anche Toldo che è stato uno dei miei idoli fin da piccolo Che mi ha avvicinato appunto all'Inter È stato tutto molto bello Loro sono preparatissimi perché anche se è passato tanti anni Credo di aver lasciato un buon ricordo E poi vivere in ambiente nero e azzurro è sempre molto bello I tifosi hanno fatto questo grande cammino della storia dell'Inter Quindi è sempre bello poter dialogare E soprattutto le curiosità Poi a me piace stare in compagnia Quindi è una serata bellissima Ero di fianco a Beccalossi Coe e Toldo E parlare con i giocatori che hanno fatto la storia dell'Inter Tanti momenti immortalati Tanti quelli da ricordare Come le foto all'interno della Top Club Nel cuore di San Siro E direttamente sul Prato del Meazza Con i due giocatori della prima squadra presenti Davide Santon e Danilo D'Ambrosio Per esserci sempre sul campo con il cuore Sugli spalti con grinta Ma anche fuori dal campo in occasioni uniche come questa Si capisce di far parte di una famiglia Di una famiglia che comunque ti coinvolge anche in questi eventi Che sono veramente unici e ripetibili sicuramente Per un abbonato che comunque ogni domenica viene allo stadio E spero che i futuri abbonati possano vincere Quindi invito ad abbonarsi assolutamente Perché l'Inter è l'Inter Vedere l'Inter allo stadio è un'emozione unica E' molto più bello che vederlo in tv Bisogna abbonarsi perché bisogna sostenere la squadra Consiglio innanzitutto di abbonarsi perché venire allo stadio E' un'esperienza fantastica Tante voci e tante emozioni in attesa dei prossimi premi Del concorso Abbonati e Avvicinati Inter e la famiglia Auguro anche agli altri tifosi interisti Insomma di vincere le stesse Di provare le stesse emozioni di queste serate meravigliose Sempre più vicino Io in questo momento ho il sangue nero-azzurro E anche la camicia E anche la camicia Prova Inter Channel a soli 4 euro per 7 giorni E poi sei libero di decidere se abbonarti Per acquistare per tutte le informazioni Premi il tasto prima fila del tuo telecomando Vai su sky.ito Chiama all'199 100 200 Prova Inter Channel e poi scegli Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti